Sì, Crax, le mantiene le promesse, ragazzi, megacassa in the past gold, oggi tanta roba, perché si tratta dell'ultima megacassa ufficiale, però qui arriva instant la richiesta like, non so se lo sapete chi è in live, sicuramente sì, ma sotto ai punti energia 500 si cela un'altra megacassa, quindi quella che apriamo oggi in realtà è la penultima megacassa gold e forse prendiamo anche la cassa enorme e vediamo, seguite tutto quanto il video, se volete un video dedicato ai 500 punti energia cambiati in megacassa 500 like, iscrivetevi, campanella e codice Crax, venerdì uscita Iris Retro, taggatemi, seguitemi su Instagram, Instagram, vi aspetto, lasciate il follow che è gratis, è tutto quanto gratis, non so se ve ne siete accorti, intanto cambio la modalità, siamo quasi a 300.000 iscritti sul canale, quindi fate iscrivere vostra nonna, vostro papà, se non avete ancora fatto l'iscrizione a Crax, conto su di voi, footbrawl, mappa molto interessante, io vado con la lente, mi affido ragazzi al destino, vediamo chi mi snipera, Lib e Vadim che sono player da 650, Pandex oggi è stato battuto, no, l'ho perso ragazzi, lo provo a rifare mettendo Sandy, vediamo il dito più veloce di chi vuole essere milionario, Axel e non lo so ragazzi, e Ben, dei Blatt, ragazzi non ce lo fanno fare, non so quello che sta succedendo, io non so come può andare dopo 10 anni di ricerca, siamo partiti, sono random agli avversari, è una cosa molto positiva, per me si può fare, però certo se Mortis se la playa bene, ci fa sicuramente una sbaragata di danni, occhio al Mortis, noi abbiamo Brawler ragazzi che sono top, colpetti per il Colt, l'ho tolto, ho quasi anche caricato la ulti, Mortis viene tolto, andiamo sull'Energetic, io vado sulla lane, with Energetic anche se ora è molto veloce, passaggio centrale, attenzione al Colt, può venirmi a dare fastidio, pro a fare dei dannetti, io penso che se vado di ulti qualche danno lo faccio, occhio al Mortis, grande il gadget di Grax, ma grazie Axel che mi ha permesso ragazzi di rimanere in life, passaggio laterale, sono contento che ce la stiamo giocando, qualcuno è rimasto chiuso in base, provo a prendere la palla, Colt probabilmente proverà a darmi problemi, ok qualche danno è entrato, Pandex passaggio tattico, Pandex la butta dentro, non è vero ragazzi, è mancato un soffio, ulti però, ovviamente offensiva che vado a fare danni, li costringo a indietreggiare, se Coltino fa la ulti ci dà una grossa possibilità, entra il gol di Grax, non si sa quello che è entrato, non ci fate caso, però l'importante per fatto ragazzi, una bella goleata, Colt viene tolto, stiamo andando veramente bene in una stagione che ripeto, non ha alcun senso di esistere, ok, in volata solitaria, provo ragazzi a fare un passaggio, ma voglio prima di tutto caricare la ulti così che io poi possa andare a mettere in difficoltà il team avversario, occhio al Mortis, tolto Mortis, Energetic non può resistere, Colt alla ulti, qualche danno glielo faccio, ma vado subito di gadget, almeno diciamo che riesco a rimanere in vita il più possibile, Mortis sta sulla sinistra, Colt va di ulti, Energetic sta sulla destra, poi che neanche so riconoscere la destra dalla sinistra, ma lasciate perdere, mamma mia il Pandex ragazzi, quanto player Pandex, quanto player Pandex, passaggio centrale, potremmo arrivare, Axel in porta, il tiro, parata di Coltigno, parata di Coltigno, non si sa quello che ha combinato, calmi perché Mortis gioca molto bene, Colt alla ulti e sicuramente la farà su di me per togliermi, non è schiacciante purtroppo, non penso ragazzi sia schiacciante, serve un mezzo Miracle Blade, io però vado a morire, Energetic è molto più strong di noi, è un 1-0, è una mappa un po' stretta, è un più 30, che vi dirò, è molto interessante, erano player da 500-600 coppe, siamo a 659, vediamo al volo, la top, 290, Jesse, Spike, Tara, sono comp particolari ma un po' di paura, devo essere sincero ce l'ho, Spike può counterarmi, è vero che ha il raggio un pochino corto quindi riesco a colpirla, la Sakurina abbastanza bene, direttamente da Naruto, non vedo l'ora regà che esca Sakura scontata, ve la shoppo instant, perché è uscito un sacco di volte scontate, non vorrei ragazzi, prenderla a prezzo pieno, comprate sempre le skin quelle vecchie scontate, non vi conviene prenderla a prezzo pieno, io vedo gente che shoppa tipo il Corva 300 ma non c'ha un minimo di senso, li stiamo schiacciando, io ho utilizzato per errore un gadget, lo Spike, lo colpisco un paio di volte, ok, la ulti la posso mettere, solo che non so se mi conviene andare di gadget, per cercare, aia, e vi dirò che difendono molto bene, ho anche paura che Tara possa metterci in difficoltà, Spike l'abbiamo, altra kill su Spike, come possiamo provare a dare fastidio al team? Prima di tutto la torretta deve andare giù, esatto, occhio Axel, non mi morire, bella partita questa ragazzi, ok, danni ci sono, Jesse viene colpita, ulti pazzesca di pande, provo a recuperare vita, vado di gadget, faccio prima, l'ho rischiata ma comunque sono stato abbastanza bravo, attenzione il passaggio, ho utilizzato male l'ulti, oh my god Axel, non so se l'avete visto, porca paletto sbiancato, failare quel gol poteva anche, diciamo, rovinarci la partita, maronna ragazzi, che è successo, però sono contento che stiamo sul pezzo, colpetto per lo Spike, non è entrato, gadget al volo di recupero, almeno riprendo tutto ragazzi e posso tornare al top, pandex gol, ma MVP di cosa, perché prendo gli MVP? 692, cosa ho visto in quella partita, mancano ancora 5 giorni alla fine della sede, e siamo 108 in Italia, ah ma è Gix Giuseppe, è uno dei nostri, grande Giuse, grandissimo Giuse, mi colpisce, mi ha fatto un sacco di danni, però anche a farmi fuori probabilmente, no, mi fa fuori perché ho giocato male io, ho esitato ragazzi e ho rischiato praticamente di prendere una bella imbarcata, grande Axel, GG su Giuseppe, tutte e tre belle partite ragazzi, sono contento, almeno vi beccate un top video, magari bustano il contenuto, ho bisogno di uno schipetto, io cerco sempre quella, lo sapete bene ragazzi cosa cerco, Giuseppe si può togliere, pandex gol, please, chiudiamo la sede di potere con altre 3 win, ma ho assolutamente bisogno di un determinato skip luminoso, non un a caso, uno skip luminoso, la ultima metto raga perché voglio provare a togliere Giuseppe, con tanto di danni nel tempo quindi sicuramente andrà giù, non può darci problemi, però certo un 1-0 si potrebbe provare a fare schiacciante, ma dobbiamo andare in porta, Pandex c'è, Tabern lo togliamo insieme, colpetti per le testate di Mr. P, grande Giuseppe, ok, tolto Giuseppe, anche in ulti di pande ci starebbe lì eh, Giampano dietro, incredibile ragazzi, non l'ho capita sinceramente questa giocata, questa giocata ragazzi non l'ho capita, però devo essere sincero, Giuseppe ha fatto una bella giocata, oh pensavo di killarlo lol, dai che dobbiamo chiudere con un 2-0 schiacciante, altrimenti non c'è booster contenuto, Pandexone lo killa, Giuseppe ci prova, viene avanti con lo shield, mi colpisce, utilizza una ulti, mi fa un sacco di danni, finché ci stanno i pinguini non riusciamo ad andare avanti, la ulti la vado a mettere adesso, provo ad utilizzare un gadget ragazzi che mi serve poi in difesa velocemente contro Gelindo e Bibi, Gelindo ci prova, passaggio in avanti per Gelindo, Gelindo dolto, allora una schiacciante, 2 win, Pandex dove sei? Pandex! No! No ragazzi! 2 win, una schiacciante, 700, 22 per noi, quindi sicuramente top 100 Ida, siamo addirittura 51esimi, fantastico, Pandex onnipresente, credo che Pandex sia anche più alto di me, ve lo faccio vedere subito, c'è GX lanciafiamme 27esimo, GX Manuel, GX Thomas, Pandex è 45esimo, non donate durante i video raga, non mi fate ridisattivare tutte quante le donazioni, grazie a chi ho donato ragazzi, scusatemi se dovete vedere questo, sconsiglio sempre di donare, lo dico anche nel video, vado contro i miei interessi, ma se voglio boostare ragazzi il contenuto, io devo utilizzare la faccina di Corvetto, eccola qua carina, saluto Pandex e andiamo subito nel Brawl Pass a prendere qualche ricompensa, andiamo con l'emote, la spilla di Energetic questa bella tutta quanta rossa, megacassa e casse enorme, prima con la megacassa e se non trovo niente, poi casse enorme, portaci bene, dammi il gadget di Jaggy, ti prego, ragazzi niente dalla megacassa, penso che non esca nulla dalla casse enorme, non abbiamo neanche cassette piccole, non ci abbiamo niente, ci sono 4 megacasse ragazzi a sconto, ma non ci interessa, se esce da qui volo un botto, ma è comunque molto difficile, questa è l'ultima megacassa del pass, quest'altra invece è l'ultima casse enorme del pass gold, poi ci saranno quelle lì alla fine, nuova reazione presa, ti prego booster contenuto, casse enorme 3, 2, 1, aspettiamo l'aprimi, ti prego, schippettino tattico, ragazzi siamo stati molto sfigati, l'altra, quella lì finale speciale, la prenderemo nel secondo momento, queste erano le ultime casse ufficiali del pass, domani vediamo, se va bene il video ragazzi potrei anche portarvi instant, l'ultima cassa mega dei punti energia, e chiudiamo tutto quanto il pass, con tutte quante le spille, vi ricordo se lo volete shoppare, questa è tutta roba ragazzi esclusiva, codice grax in the shop, like, iscrizione, campanella, e primo link se vuole fare la sub, ciao ciao, Ciao Grazie a tutti.